Un confronto con gli operatori della nautica del fiume Magra, un momento ha confartigianato Sarzana per raccogliere le istanze e ragionare sul futuro del settore. Sul territorio e soprattutto in ambito parco, per il presidente della provincia e sindaco di Amelia De Ranieri, serve una revisione del piano. Cambiare il piano di parco vuol dire rendere il fiume una realtà integrata e un porto canale come storicamente è sempre stato. Noi oggi abbiamo un piano di parco che prevede ancora il master plan della Marinella S.p.A. che è morto e sepolto e su queste previsioni faraoniche nulla ha a che vedere l'ambiente e la tutela del territorio. All'incontro era presente anche il comune di Sarzana con l'assessore Campi per stendere un ulteriore legame con gli operatori e sentire le loro necessità. Questo è proprio il momento ideale per poter ascoltare le esigenze e perché la parte politica possa diciamo fare da collante di tutte le esigenze e necessità e sicuramente nostro compito sveltire un processo che negli ultimi anni è stato abbandonato. Un momento di confronto, quello di confartigianato in vista del tavolo tecnico che si terrà nei prossimi giorni con il parco di Monte Marcello. Oggi come associazione noi chiediamo di cercare di capire quelli che sono i nuovi scenari, le volontà dei diversi comuni, rappresentare i problemi reali di questa economia del mare che ha delle enormi prospettive ma anche delle difficoltà e cercare di capire, fatti salvi, i valori del piano della nautica soprattutto nel contesto ambientale turistico, quelle che possono essere le reali prospettive di adeguamento.